Ma io dopo, guardi, ieri hanno appeso il mio manifesto a testa in giù, ho ricevuto insulti di tutti i tipi dalla sinistra per essere donna, per essere della Lega, per essere donna non di sinistra e che mi si venga a fare lezioni di politicamente corretto proprio da questa parte della sinistra non lo trovo giusto, non lo trovo corretto. E quindi io credo che il generale Vannacci abbia scritto un libro, condivisibile o meno, Zan e i suoi compagni sono liberi di non votarlo, i leghisti sono liberi di non votarlo, perché nella lista per esempio della Lega ci sono altri 14 candidati nel centro Italia, ci sono per esempio io, ma io ho voluto difendere anche in più occasioni il generale Vannacci da questo accanimento mediatico, perché quell'intervista effettivamente forse non è riuscita bene, poi lui ha spiegato, non voleva dire quelle cose, dimostra un'ingenuità politica, ecco su questo magari mi interrogherei, perché è un'ingenuità politica fare un'intervista alla stampa dove ti cambiano il titolo e ti estremizzano il titolo. Effettivamente il generale non fa politica, non ha fatto politica negli ultimi 15 anni ed è molto, diciamo, forse ingenuo a volte a rapportarsi con la cosa sola. Guardi, se ogni volta che dici una cosa poi devi spiegarla, forse è un problema di comunicazione. Forse tu meglio che non fai politica, se ogni volta che ha un fascista, il problema viene fuori ora, quando ha scritto un libro e non veniva fuori, quando invece serviva lo Stato sotto le mine, sotto le bombe. Continua a fare generale, continuo a fare generale, continuo a fare generale, continuo a fare generale, continuo a dire che è quello che pensa. E' un'ipocrisia, perché finché i militari vanno a rischiare la vita all'estero, va bene, nessuno si interroga sulla sua appartenenza politica. Quando uno decide di candidarsi e di esercitare un diritto politico arriva il problema.